Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto set di personaggi GM Series Jintama. Prodotto da, Megaose nome del prodotto, GM Series Jintama Okita Sugo. Materiale, PVC, ABS. Da 15 anni, Age. Paese di produzione, Cina. Ideaki Soraki Shesha, TV Tokyo, Dentsu, Surise. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.